Abbiamo un circuito composto da una pila da 9V con questa polarità che è collegata ad un LED per mezzo di una resistenza di limitazione che serve a non danneggiare il LED. Ci viene chiesto di determinare il valore approssimativo di questa resistenza in modo da non danneggiare il LED. Per poter fare questo calcolo ci mancano dei dati ovviamente e in particolare possiamo fare queste assunzioni. Possiamo assumere che ai capi del LED ci dovrà essere una caduta di tensione di 1,5V, quindi VL, VLED, deve essere 1,5V e vogliamo far circolare dentro questo LED una corrente I di 10mA. Sono dei valori ragionevoli per un comune LED. Ora, avendo inserito questi ulteriori dati nel problema, vediamo se siamo in grado di calcolare la resistenza R. Quello che possiamo osservare è che adesso, se sul nostro LED ci dovrà essere una caduta da 1,5V, possiamo pensare ad un circuito che rappresenta questo appena assegnato fatto in questo modo qui. Qui abbiamo il nostro LED utilizzatore sul quale ci sono 1,5V e qui c'è la nostra resistenza R. Possiamo applicare la legge di Kirchhoff delle tensioni e scoprire dunque che la caduta di tensione che si deve presentare sulla nostra resistenza R, quindi questa V con R, deve essere uguale alla tensione della batteria, che chiamo V con B, meno la caduta di tensione ai capi del LED. Questi due valori li conosciamo e quindi abbiamo che la caduta di tensione che si deve presentare sulla resistenza R deve essere uguale a 9V, meno 1,5V, che è la caduta di tensione sul LED. 9, meno 1,5V fa 7,5V. Abbiamo dunque determinato la caduta di tensione che deve introdurre la nostra resistenza R per proteggere il nostro LED. Nota V con R e nota anche I, che è la corrente che deve circolare nel circuito per accendere il LED e per non danneggiarlo, quindi questa I la conosciamo, possiamo finalmente calcolarci la nostra R utilizzando la legge di Ohm. La caduta di tensione sulla resistenza R si ottiene moltiplicando la resistenza R per la corrente che in essa circola. E quindi la resistenza R si può ottenere invertendo questa formula e quindi come rapporto tra la tensione ai capi di R e la corrente in essa circolante. V con R è uguale a 7,5V, la corrente I come dato di progetto è pari a 10mA, quindi 10 per 10 alla meno 3A e quindi possiamo fare questo semplice calcolo. Prendiamo la calcolatrice per non sbagliare, 7,5V diviso 10mA, 10, elevato da meno 3A, viene fuori 750. Quindi R deve essere uguale a circa 750 Ohm. Bene, e con questo abbiamo risolto l'esercizio. Se non dovesse essere disponibile un valore di resistenza pari esattamente a quello desiderato, possiamo chiaramente o utilizzare più resistori in serie per comporre il valore desiderato, oppure tentare di sceglierne uno il più vicino possibile. Ovviamente cambiando il valore di resistenza cambierà anche la corrente che circolerà nel circuito, quindi se sceglieremo un valore più piccolo aumenterà la corrente che circolerà nel LED. Se scegliamo un valore più grande di 750 Ohm, la corrente circolante nel LED sarà più bassa e quindi il LED meno luminoso. Bene, con quest'ultima considerazione possiamo dichiarare concluso l'esercizio. Grazie per l'attenzione e alla prossima!